Francesco Monte si racconta nel salotto televisivo di Verissimo condotto da Silvia Toffanina a cuore aperto, spaziando tra vari temi. Dal gossip che lo riguarda, ha i suoi progetti relativi il campo musicale. Ospite del programma, l'ex cantante di tale e quale show si è soffermato su un tema molto intimo e delicato, quello degli attacchi di panico che gli hanno reso la vita impossibile ma da cui, fortunatamente è guarito dopo una dura lotta. Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi, con queste parole l'ex tronista di Uomini e Donne ha introdotto l'argomento, per poi proseguire, gli attacchi erano probabilmente l'effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre. Francesco ha perso la madre dieci anni fa a seguito di una malattia che l'ha strappata alle braccia degli affetti e dei figli proprio mentre cominciava la sua avventura nel programma di Maria De Filippi. Proprio lì dove ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico. Ma l'esperienza ad Uomini e Donne e soprattutto il gossip sembrano essere il passato ormai, e dichiara, ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza. Sempre durante l'intervista con Silvia Toffanin, Monte ha toccato l'argomento musica, dopo la parentesi a tale e quale show, ha preso gusto a cantare tanto che parla di Sanremo. La mia intenzione con Sanremo è di riprovarci, afferma. Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso.